Sarà affolta la pattuglia catanese protagonista nelle finali Scudetto 2015 di Canoa Polo. Sabato e domenica prossima a Roma si assegneranno i titoli tricolori e tra le otto contendenti al titolo maschile ci sarà anche lo Yomar Catania, di salvo Messina, rivelazione della regular season. Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a conquistare anche quest'anno i play-off, spiega Messina, e ripetersi non era affatto facile. E' stato importante l'innesto di un giocatore come François Barbi, ma tutti hanno lavorato molto credendo fortemente di poter migliorare la qualità del nostro gioco. Tra le donne sarà Sandra Catania la protagonista assoluta dell'atto conclusivo della stagione. L'allenatrice catanese guiderà le campionesse in carica della polisportiva Canottieri Catania e le ragazze del gruppo sportivo Catania. Anche quest'anno arriviamo alle finali Scudetto con due squadre catanesi che appartengono al circolo Canoa Catania e questo dimostra quanto crediamo nel lavoro che portiamo avanti da anni. E' chiaro che cercheremo di confermare il tricolore per la terza stagione consecutiva, ma non possiamo dare nulla per scontato. Queste le parole dell'allenatrice rossazzurra che tra l'altro sarà impegnata anche nella finale Scudetto Under 14 con lo Iomar, in una giornata che si preannuncia molto intensa per la Canoa Catanese.